Non è molto semplice restare seri in compagnia di Antonio perché è un burlone, è un ragazzo molto egocentrico nel senso più positivo della parola e ama ovviamente anche stare allo scherzo. Antonio perché è qui? Abbiamo convocato Antonio per questa intervista perché tra le varie cose che fa, che lui studia, lavora, fa tante cose, ha partecipato ad un programma televisivo, vero? Certo, ho partecipato. Però ci torniamo dopo, iniziamo un pochino a parlare di te. Tu sei un ragazzo di caserta, che cosa fai nella vita, come riempi le tue giornate Antonio? Allora io sono studente di psicologia e poi soprattutto sono scrittore e mi piace soprattutto sono scrittore a 360 gradi perché io scrivo poesie, canzoni, sketch comici, filastrocche, barzellette, emotti, aforismi. Insomma tutto quello che riguarda il mondo della scrittura diciamo è campo mio. Anche saggi di filosofia perché comunque sono appassionato di filosofia e anche tocco spesso alcune tematiche che riguardano la spiritualità. Infatti posso fare una mia battuta? Facci la tua battuta. Noi siamo esseri paranimali, dal greco para oltre l'animale e dal napoletano parananimale, ma non zina animale. È carino. Antonio è abbastanza difficile da tenere a bada. Se avete visto una puntata di Italia's Got Talent ve ne siete resi un po' conto perché Antonio è stata un po' la rivelazione casertana di quel programma. Ci vuoi raccontare come... andiamo un po' per gradi. Raccontaci prima come ti è venuto in mente di fare questo programma, come hai fatto per partecipare, insomma... Sì diciamo che ho superato le selezioni a Roma di Burtina e poi devo... negli studi Mediaset e quello che ho notato soprattutto, non perché voglio vandarmi, però io lì ho socializzato molto con le persone durante le selezioni, quelle prima superate e quelle poi si accede alla puntata, però nelle selezioni ho socializzato molto con le persone che stavano là... E non avevamo dubbi, eh? Quelle persone che ho visto, nessuna di quelle che poi ho incontrato alle selezioni le ho poi riviste alla puntata, nemmeno vedendo poi altre puntate di Italia's Got Talent. Quindi sono stato scelto fra tantissime e tantissime persone che hanno fatto... Questa è una cosa importante che ci hai detto perché spesso l'utente normale, il telespettatore passa un sabato sera davanti alla televisione, vede un programma, vede una persona brava, simpatica, sorridente, però non si chiede e non sa ovviamente perché spesso sicuramente il provino è qualcosa che sta prima, non sa quella persona quante selezioni ha dovuto passare, sicuramente ci sono tantissime richieste perché comunque Italia's Got Talent è un programma, è il programma di punta del... È un programma molto ambito perché comunque viene in prima serata del sabato sera e poi la puntata che comunque ho partecipato io è stata seguita da quasi 6 milioni di persone, quindi è il programma più visto in tutta Italia del sabato sera, quindi comunque fa gola a molte persone, è una vetrina importante, quindi bisogna superare le selezioni e nel caso si superano le selezioni si accede alla puntata, ma ripeto comunque non è semplice arrivare al programma, però comunque se una persona ha talento e soprattutto non è vero che nel forum di Italia's Got Talent c'era scritto che in TV ci vanno solo i raccomandati e voglio assicurare che questo non è vero, perché io comunque non avevo raccomandazioni e comunque sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio, quindi se una talento e diciamo ce la fa a partecipare, quindi... È vero, hai toccato anche un tasso molto importante perché spesso il mondo della televisione è vittima di tanti pregiudizi, pregiudizi che vengono un po' dalla non conoscenza di questo mondo che ci sembra tanto lontano. Certo è che adesso questi programmi sono da qualche parte un po' attaccati perché si dice è l'utente medio, ormai è la persona comunque normale che va comunque in prima serata e quindi c'è uno spazio, però Antonio è vero tu ci hai fatto sorridere perché chi ha visto questa puntata è Antonio ovviamente ha avuto la sua esplosione di simpatia ed è stato un vulcano in piena, ha raccontato tutto quello che fa o quasi tutto e vi assicuro che fa tante cose, quindi ha preso un po' è stato proprio un animale da palcoscenico e ci vuoi veramente brevissimamente perché poi lì insomma ti hanno un po' tagliato ma si è capito che il tuo spazio è stato tanto, ci vuoi raccontare come sei approcciato a questo palco anche perché era il primo programma che facevi non hai avuto neanche un po' di timidezza niente, come è stato l'impasto? No no, devo dire la verità, io all'inizio cioè quando guardavo dall'esterno un programma televisivo così importante mi chiedevo continuamente come facessero comunque a rimanere concentrati invece mi sono reso conto che alla fine non, vabbè dipende anche dal tipo di carattere però comunque non è stato così, è stato come cantare in un qualsiasi teatro, io ho cantato all'Auditorium Massimo a Roma dove si fa la puntata Vorrei essere un pistolero del Far West, sparare le mirime in un loop contest, cantare come Nutini in Last Request, suonare come a Levia Festival de Jets, diventare milionario con un test, un super quiz, essere più frizzante di un Galippo Fritz, presentare come a Fabitz o Fizz, essere più provocante di Jessica Ritz, essere inseriti in una Grady Stitz, essere a Napoli a Magnana a Piz, andare avanti e indietro come Speedy Piz, buono come il cioccolato Made in Switz, portare a Sanremo il brano Bella Zitz, fare l'affare come Ronaldinho a Siss, vorrei predicare come Francesco da Siss, trasformare Mozart in un Jets in Pop, essere marchio garantito come la Cop, dirigere un'orchestra, dare il viello stop, riempire gli stati come le star del pop, essere il protagonista di una soppop, rimanere sempre al top, quando mi vedi la tua testa fatica e toc, dica sono shock, con Maccasella da Bloc, nel minuto di silenzio maggio le cric e croc.